Ciao, oggi voglio parlarti di tre importanti step da seguire se vuoi iniziare a partecipare alle aste giudiziarie, se vuoi capire come funzionano le aste giudiziarie e soprattutto quali sono i tre passaggi semplici, chiari, definiti per capire come muoverti ed iniziare a intraprendere un percorso all'interno di questo settore. Ti dico innanzitutto che se sei le prime armi è giusto che ponderi bene quello che stai facendo perché ci sono tanti rischi nel mondo sia delle aste come nel mondo tradizionale, però non voglio elencarti una serie di punti che poi domani non ti ricorderai di quello che stai vedendo in questo momento, ma te ne voglio elencare tre in modo tale che ti rimangano impresse e siano ben chiari e definiti per iniziare a capire come devi partecipare alle aste e soprattutto che cosa devi valutare prima di partecipare a un'asta giudiziaria. Il punto numero uno è la documentazione. La documentazione è molto importante perché ti dà un'analisi completa di quello che è l'acquisto che eventualmente, l'investimento che eventualmente dovrai andare a fare. Come documenti hai a disposizione le fotografie, hai a disposizione la perizia, hai a disposizione la planimetria se si tratta di immobile, hai a disposizione l'avviso di vendita, insomma hai a disposizione una serie di documenti che trovi all'interno degli avvisi di vendita, ad esempio sui portali o all'interno in alcuni casi anche dei tribunali stessi, quindi delle sezioni ad esempio fallimentari oppure delle sezioni di vendita all'interno dei tribunali. Quindi la documentazione è alla portata di mano e ciò che è importante è proprio saperla valutare, saperla leggere, saper capire quali sono le cose positive e le cose negative e se non sei in grado di valutare a 360 gradi la documentazione che tra queste la perizia è la più importante, beh ti suggerisco sicuramente di avvalerti di un professionista che ti possa dare una mano sotto questo aspetto. Il secondo punto invece è la visita. Molto spesso mi contattano per propormi degli investimenti immobiliari dove loro addirittura mettono il capitale, io gli do la consulenza o molto spesso mi contattano per creare un co-working di un crowdfunding, una specie di crowdfunding dove insieme ad altri investitori si può creare un investimento. Però quello che molto spesso viene sottovalutato è la visita. La visita ad esempio sia dell'immobile ma anche del bene mobiliare che può essere una semplice automobile è fondamentale perché molto spesso mi ritrovo ad avere dei business plan da parte di persone che vogliono il mio supporto, però in questi business plan non sono presenti voci che vadano a ricalcare il fatto che è stata fatta una visita. Cioè sono business plan su carta ma non reali. Cioè ci si basa molto spesso su quello che è il prezzo posto in vendita dall'istituto giudiziario oppure dal giudice e quindi dal tribunale ma non si va a fare una verifica in loco, quindi sullo stato di manutenzione dell'immobile piuttosto che dell'automobile, piuttosto che di un arrendamento o delle attrezzature. Il discorso è uguale, la visita è importante come secondo passaggio, come secondo step. Questo poi ci porta al punto numero 3, allo step numero 3 e cioè il business plan. Se tu hai letto la documentazione che riguarda il punto 1, poi al punto 2 hai visitato, hai valutato, hai rendicontato tutto quanto, il business plan sarà molto più semplice, sarà molto più attendibile e reale. Quindi il business plan ti dà poi alla fine una carta d'identità, cioè ti dice effettivamente se quello che tu vuoi fare, l'operazione che stai portando avanti è effettivamente conveniente oppure no. Sia in termini di acquisto che molto spesso è conveniente, però in termini di rivendita, se vuoi fare l'investitore, l'imprenditore o sei un libero professionista, il business plan in questa terza fase è importantissima. Anche perché nel business plan devi calcolare una serie di costi che molto spesso vengono omessi. ad esempio come le spese di cancellazione, delle gravanti ad esempio su un immobile piuttosto che anche su un'automobile. Cioè ci sono delle spese che pendono su questi beni molto spesso che vanno cancellati e questi costi devono essere assolutamente valutati e messi all'interno del business plan. Se non sai individuarli ti consiglio sempre di confrontarti con un professionista, un consulente. Ad esempio noi di Asta Giudiziaria e Strategi facciamo questo, cioè ti possiamo dare una mano e se hai bisogno puoi contattarci direttamente. Però un'altra considerazione da fare all'interno del business plan è proprio quello delle spese che sono già indicate all'interno dell'avviso di vendita o addirittura molto più precisamente all'interno della perizia. Perché quello è il cuore dei documenti. Devono essere valutati tutti i documenti però la perizia è la parte più importante. E i costi che sono riportati lì ed eventuali spese accessorie e spese future da dover sostenere se non li calcoli rischi di fare un investimento pessimo che non ti potrà portare un ritorno quindi un ROI che non andrà a soddisfare assolutamente quelle che sono le tue prospettive. Tieni ben presente questi tre step molto semplici quindi step 1 documentazione, step 2 la valutazione, la visita e step 3 il business plan che ti darà una definizione se il tuo investimento è giusto o sbagliato. Lasciami un commento sotto questo video e condividilo.